Si tratta dell'iniziativa culturale che si conferma uno dei festival estivi più prestigiosi attesi dell'estate siciliana e che tra il 22 giugno e il 5 luglio vedrà susseguirsi ben nove spettacoli a Legadi che spaziano dalla musica classica alla prosa. L'ente organizzatore del festival è l'associazione Chimbala, con il patrocinio del comune di Favignana Isolegadi, della regione siciliana, dell'area marina protetta Isolegadi e con la collaborazione del conservatorio di musica Scontrino di Trapani. Il conservatorio quest'anno ha voluto utilizzare una strategia di presentazione sul territorio, quindi per noi è stato un grande onore e piacere raccogliere l'invito del maestro Scorselli che appunto ci ha dato la possibilità di presentare nel festival sia la partecipazione dei migliori allievi come esecutori sia di partecipare attraverso un progetto che coinvolge invece le classi di composizione, gli allievi di questo corso, per la realizzazione di composizioni inedite, originali, sul tema dell'Odissea. Crediamo fortemente che il passaggio dal livello accademico all'ambito della produzione e in questo caso anche alla compenetrazione con un sistema culturale di valorizzazione del territorio e del turismo sia un'arma vincente per poter dare anche una speranza dal punto di vista occupazionale a tutti gli allievi del conservatorio e di chi si occupa di musica in senso professionale. Io insegno composizione assieme al mio collega Matteo Pittino e noi partecipiamo con i nostri allievi diciamo dei corsi superiori a cui abbiamo commissionato appunto ciascuno ai due allievi e quattro lavori sul tema dell'Odissea per un ensemble di fiati del conservatorio. Come diceva il maestro Roccaro, questa occasione è interessante proprio per questo relazionare la parte accademica di formazione di questi studenti, in questo caso i compositori eccetera e il mondo reale fatto da un pubblico che in questo caso sarà chiamato anche a diciamo esprimersi sui pezzi.